C'è qualcosa di magico, di sacro, nel registrare la tua voce. Poter vivere per sempre, come le storie, come le leggende, quelle che si raccontano sedute intorno al fuoco, in una notte senza luna. Io stavo in soggiorno ogni pomeriggio, usavo il telecomando come un microfono e immaginavo che davanti a me avrei avuto migliaia di persone che gridavano il mio nome e le mie canzoni. Dopo solo un uomo tutto è cambiato. Il genere era stato sdoganato, le porte erano aperte e ormai la mia vita era cambiata. E ancora mi sembrava strano, a vent'anni, stavo più in tour che in studio, figuriamoci a casa. La vita è davvero un film, devi solo scegliere il ruolo che ti meriti. Ti accontenti di essere solo una comparsa o vuoi essere il protagonista?